Ciao! In questi giorni ero lì che pensavo, boh, allora io il 24 di luglio chiudo poi per una settimana che me ne vada al mare, poi c'è il mese di agosto, mi son detto di che cosa posso parlare qui nelle recensioni che facciamo tutte le settimane sulla pagina della libreria retusa che faccia il botto a sufficienza per saziarci per qualche settimana in cui ne farò di meno addirittura in alcune non ne farò proprio, e mi son detto perché non parlare dell'unico, credo di sì, dell'unico libro, no, uno dei pochissimi libri, ma tra questi certamente il più importante che ho qui da retusa in esclusiva assoluta e mondiale. Questo libro qui è il libro M di cui appunto parleremo domani M sta per massoneria ed è un catechismo interno ad una loggia di studio molto interessante del Grand Oriente d'Italia che c'è qua a Torino, che è la Propaganda 14, e ne parliamo domani alle 18 su tutti i canali della libreria retusa. Grazie mille a tutti, a presto, a domani, ciao!